Ciao a tutti, qui è Luigi, oggi siamo in San Fele, in Basilicata, in San Vitale, e stiamo visitando il centro del cittadino. Buongiorno! Tutte salite qua, comunque... Eh, guarda qua qua! Lì c'è la biblioteca comunale, se scendete a destra, e scendendo a destra, e sto facendo un video perché questa posta è troppo bella, scendendo a destra c'è una sorpresa, c'è quel piccoletto molto carino che vi faccio vedere. Non ve lo aspettate perché, a giudicare dall'imbocco della strada, uno si aspetta peggio. Perfetto! Che strada! Però non ve ne pentirete! Vai vai! È stancante, sì, tutte queste salite. Tutte le salite, mamma, non ne ha deciso. Abbiate fede, abbiate fede! Ma è aperta questa biblioteca durante la settimana, che no? La biblioteca è chiusa adesso, non la stasi aperta. Però io vi ho portato qua, per... C'era il vicoletto. Ti piacciono i vicoli? Abbiate fede, abbiate fede! Ancora a venti metri! Ma è quant'ora? No! Ma tu ti porti tutti dietro! Quando in guarda qualcuno se li porta tutti dietro! Eh, quando sono i posti belli! Guarda qua! Eccolo lì, siete arrivati! Questo è il posticino che vi volevo far vedere. Dove è questo cos'è fiorito? E' qua, è tutto fiorito, vedi? Adesso non mi picchiate, eh! Vi ho fatto fare solo venti metri in più, dai! Qua c'è questa signora che mi ha incontrato, mi ha detto che lei è originaria di San Fele e ha un negozietto di artigianato lì di fronte. Vedi che là c'è una porta aperta. Vediamo un po' che c'è! E' giusto! Vieni qui con i fiori! Vediamo che cos'ha! No, è aperto mamma, vieni! Eh sì sì! Vediamo cosa c'è! In pratica buone, su tutte case sue! Mi sembra sia una signora Anna! Uno non si aspetta che ci sia vita qui, eppure... E se vi piace origano e buona giornata, salve! Se vi piace la vigra... Se vi piace la vigra... Se vi piace la vigra... Sono fermata dal primo imbocco... E' finito il vigro fiorito! Allora, arriviamo solo in fondo... Andiamo anche qua... E qua c'è il castello! Fine! Fine del tour!